signori e signori buongiorno purtroppo il film forno 50 sfumature di trapanotto oggi non andrà in onda siamo a mesagne abbiamo perso antonio maggior da qualche parte siamo con gianni e il super giovane tomato ok niente adesso stiamo per percorrere la strada che ci porterà dove non lo farà oria e faremo il tour delle bariste buone immagini la faccia che farebbero se da domani davvero davvero tutti quanti smettessimo immagini quante famiglie sull'astrico altro che crisi del dollaro questa sì che sarebbe la crisi del secolo immagini se fosse sempre domenica tu fossi sempre libera e se tua madre fosse meno necolica a meno che non siate già tutti d'accordo con me che c'è qualcosa che qualcosa che non va non so però ma secondo qui c'è qualcuno che ha sbagliato il mio stile non voglio mica dire che sembra vero per carità però però di qualche cosa non va fantasie e fantasie che volano di bere fantasie che a volte fanno ridere fantasie che credono ad entrare immagini la fregatura che ha preso quelli che sono partiti tutti i corsi a tutti quanti per il messo immagini la fregatura che sei sempre domenica andrei da吃 qui andrei che andrei me Eccolo, eccolo, eccolo! Fantasie, fantasie che vogliono dire Fantasie che a volte fa ridere Fantasie che cregono le favole 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 Pavole. Pavole. Noi in ogni comune che incontriamo sulla nostra strada ce l'abbiamo tutto con l'incontro. Esatto. e vabbè adesso facciamo qualche filmato poi perché oggi è una bella giornata no che ne pensi di questo gennaio febbraio quasi marzo inizio aprile molte mite c'è l'anticiclone che si sta proteggendo eccolo e sta messo lì l'anticiclone sta bevendo adesso l'aglio l'anticiclone sta mettendo la coraggio esatto si scrivono così le stazioni che mi hanno fermato perché te che derivano Gianni Roli è appena uscito dal bagno un applauso ahahahahah è il motivo per stare qui hai fatto niente ancora no? ahahah vabbè e niente stiamo per incambinare facciamo questa bella giornata ho convinto che se fosse stato per me adesso forse sarei laureato quindi e magari se lei fosse stata con me adesso se fosse stato non sono mai stato così adesso sono qui adesso sono qui liberi liberi siamo noi però liberi da che cosa chissà cosa fai vi comunico che se non è fatto così con la testa vuol dire che sta facendo un video ci siamo fermati a banana gioia infatti come vedete la eh l'arma del delitto sta ancora in mano a tuo mano a gioia che tagliarga la scorza praticamente eh perchè perchè la banana? perchè si prende la banana? vediamo perchè si prende la banana? intanto la banana stiamo parlando di banana comestibile la banana comestibile quella scorta ecco no 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 quella scorta è buona perchè contiene sembra che contiene potassio anche se hai detto di oggi mi sa che controllo potassio intanto la banana è meglio controllo potassio non è un qualcosa è un elemento mi sembra si 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 della tavola periodica giusto? è con niente diciamo degli elementi dovrebbe stare nella banana ma di potassio intanto la banana non da parlare anche anche se ci sono molte donne che con la scusa del potassio fanno banane però lasciamo perdere lasciamo perdere cancella la staparte c'è la staparte e noi ci apprestiamo a tornare a casa andiamo a tornare a casa ma che usate questo l'anno Per sapere che sei, lo sfatto di lei è stato il suo successo da stare Cos'è lo sfatto di te, lo sfatto di te, lo sfatto di essere, è stato il passato, il passato Liberi, liberi siamo poi però liberi da che cosa, chissà cos'è E' la voglia, la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cosa divento, cosa divento, quella voglia che non c'è più, cosa divento, cosa divento, che cos'è che ora non c'è più, cosa divento, cosa divento.